Dai Raffa sei in piedi, vieni! Amico, nostro uomo, nostro fenomeno, nostro futuro, non c'è più parola amico, hai fatto un anno più di tu, adesso piedi per terra e lavorare ancora di più, perché è solo inizio amico. Voglio ringraziare tutti, anche te che mi hai aiutato quando sono arrivato qua, e ringraziare tutti i staff, molto orgogliosi di tutti voi, grazie mille.